Buongiorno e buoni ritrovati a tutti quanti voi cari amici sostenitori del mio canale e non come anticipato ieri sui miei social facebook e instagram personale Oggi parliamo di Palavolo, in particolare di Adriatica Vole Trani, intervista con il nostro Niki Zecchi, nostro amico Ricordiamo che Adriatica, prima di andare a leggere domande e risposte, è ormai da due anni sicuro in serie di due femminili di Palavolo di categoria E poi un bel corso già da meno di un paio d'anni dalla sua nascita come società sportiva di Palavolo Femminile a Trani Bene, partiamo con le domande e risposte Prima domanda, come consideri il cammino fatto fino ad oggi da parte dell'Adriatica Vole Trani Femminile? Niki Zecchi ci ha detto, la società del Presidente Mimmo Cosentino ha costruito nel corso degli anni una società solida e combatta di Palavolo E questo appunto, come stavo dicendo anche io, diciamo, di questa nata è ricca di soddisfazioni E comunque, il caro nostro amico Presidentissimo Mimmo Cosentino, diciamo, è sempre pronto a sorprenderci Seconda domanda, secondo te, quale è stato il momento più bello che la squadra ha vissuto? Niki ci ha detto, il mio momento più bello sicuramente è stato il salto di categoria dalla Serie C alla Serie B2 E questo, credo, siamo un po' tutti quanti d'accordo Dove può migliorare la società nell'offerta al territorio in termini di visibilità e promozione? Aggiungo io Risposta, in questi anni l'Adriati Cavalletrane è cresciuta sempre di più tra prima squadra, giovanili, minivalle, campionati regionali, provinciali La novità dell'inserimento è anche della palacanestro, la Durenum palacanestro Credo il minibasket E tra le varie attività Anche, ovviamente, la bellissima novità per quanto riguarda lo spazio estivo, il camp estivo Che quest'anno, se mi sbaglio, tra tre o quattro giorni dovrebbe partire l'Adriati Camp Summer 2022 Poi, diciamo, c'è anche una mia amica che, come si dice, arrischerà questo tempo di relax, di divertimento Con delle opere artistiche Maria Celamare, che saluto tantissimo Una bravissima artista Seguitela sui social Facebook e Instagram Maria Celamare Creativa Quindi, noi diamo affondamenti alle prossime occasioni Voi lo sapete, i miei canali sono YouTube, Facebook, Instagram In fase di programmazione Visto che, al momento, questo mood sta andando bene Con il video della Pule abbiamo avuto un modesto successo Più di 600 interazioni a livello di visualizzazione In tre o quattro giorni La settimana prossima, ovviamente, arriverà anche un'altra intervista Quindi, che dire, buon fine settimana a tutte Sperando che possiamo goderti un po' di sole e tranquillità Qui a Trampers in questi giorni Stanno rambendo un po' troppo le scatole Il maltempo Quindi, poi, fine settimana Per quanto riguarda lo sport Domani, l'Italia contro l'Inghilterra Nello stadio del Lugso Volveretto Ierlander 21-1-1 in Svezia Basta un pareggio contro l'Irlanda Ma, secondo me, i nostri ragazzi devono vincere ad Ascoli Per finire i primi nel Girono Per andare all'Eurobena nel 2023 Che dire, saluti a tutti La Ferrari, Formula 1 Speriamo in bene Perché lei è stato un bel po' sfortunato Negli ultimi tempi Un po' la macchina Un po' magari la negligenza del suo staff Vabbè, a Puglian sarebbe femminile Quindi, va bene Saluto a voi tutti Amigos, buon fine settimana Nuovamente alla prossima Ciao